Anna Maria Cancellieri è un ministro che ho stimato e stimo moltissimo. Ho proposto che fosse ministro dell'interno nel governo che ho presieduto. Ha fatto molto bene quelle funzioni, non solo specificamente sugli interni, ma anche sostenendo molto tutte le riforme della giustizia che la sua e nostra collega Paola Severino stava portando avanti. Successivamente nel governo presieduto da Enrico Letta alla giustizia ha tenuto molto duro di fronte alle grandissime pressioni perché venisse smantellata la riforma della geografia dei tribunali. C'erano fortissimi interessi e la Cancellieri ha tenuto duro nell'interesse generale degli italiani, credo. L'avevamo in effetti proposta durante una certa fase credo che sarebbe stata un'ottima Presidente della Repubblica. L'avevamo proposta proprio perché non fa parte di nessun partito, neppure di scelta civica, come personalità al di fuori e al di sopra delle parti. Quindi non parlo del ministro Cancellieri come di un ministro di scelta civica, non ha nulla a che fare con questo. e quindi ha ancora forse più valore la parola di stima che io posso dire su questo ministro che non appartiene al partito che ho fondato. Naturalmente non conosco i fatti che sono al centro delle discussioni attuali. Non conosco i fatti, però non si è fatta un'idea. I giornali sono stati molto precisi, i giudizi sono tutti aperti naturalmente, però nel raccontare di queste telefonate ce ne sono state perlomeno due. e poi è arrivata la notizia della terza che non era stata, insomma, la prima con la compagna di Salvatore Ligresti e poi le telefonate con Antonino Ligresti. C'è questo legame di famiglia molto forte, il fatto che il figlio lavorasse per i Ligresti. Insomma, la storia mi pare che sia venuta fuori con una sua completezza. Allora, immagino che forse lei non ne ha parlato con l'interessata, però non ha un'opinione su questo, Presidente? L'opinione che credo coincida in questo con quella dell'interessata che l'ha detto quando è venuta al Senato e poi alla Camera, non so che parola abbia usato, ma sicuramente alcune di queste telefonate sono state inopportune fatte da parte di un ministro.